Musica Dottore Bramilla, qual è la situazione della sanità calabrese e crotonese nel particolare? La situazione della sanità calabrese e crotonese in particolare è una situazione in divenire in questo momento. Io sono stato contattato da commissario Chiuto per svolgere questo ruolo di commissario qui nell'azienda sanitaria di Crotone e devo dire che ho notato una visione e una spinta da parte dell'amministrazione regionale, in particolare del Presidente, ma anche della Vice Presidente che oggi è venuta a Crotone a darci una mano. Poi si è occupata lei del progetto dell'Università Crotone, naturalmente. Comunque è una situazione con un Presidente, mi viene da dire, molto sul pezzo, cioè uno che segue l'andamento del tentativo di sistemazione sia dei conti, stiamo lavorando anche sui bilanci, sui debiti pregressi che sono significativi e stiamo pagando fatture pregresse, controllando naturalmente perché c'è una grossa operazione di controllo sul debito pregresso. Stiamo lavorando sull'ottimizzazione della rete dei servizi, basti ricordare la nuova rete del 118 che è partita qui a Crotone, è partita nella seconda metà di febbraio, quindi 10 giorni fa. È una progettualità che è stata realizzata dall'amministrazione regionale in collaborazione con dei consulenti qualificati e devo dire, io ho visto, conoscevo in realtà il progetto perché è fatto sul modello di Regione Lombardia ed è una modalità estremamente innovativa, molto efficace, molto efficiente e in questo momento noi stiamo adattando il sistema ma parallelamente alla riorganizzazione c'è stato anche un investimento qui nella provincia di Crotone il numero delle postazioni e delle ambulanze viene aumentato significativamente. Questo permetterà un'assistenza in emergenza e in urgenza più qualificata. È chiaro che come tutta l'innovazione ci vuole un po' di tempo perché gli operatori si abituano ai nuovi sistemi e alle nuove modalità. Quindi questo è un esempio, un altro esempio, noi stiamo lavorando insieme anche alle altre aziende sanitarie sui tempi di attesa per le specialistiche ambulatoriale. C'è proprio un lavoro che cerca di dare informazioni precise alle direzioni generali per poi mettere in campo le azioni correttive. Stiamo lavorando su, in particolare qui a Crotone, io sto lavorando anche sull'informatizzazione dell'ospedale e di altre reti perché uno dei problemi di questa regione e anche di questa azienda sono proprio i sistemi informatici e informativi, cioè quei sistemi che ti permettono di rendicontare in modo preciso l'attività svolta, che ha sicuramente un problema anche sulla rendicontazione nazionale dell'attività svolta. Quindi è necessario lavorare sullo sviluppo delle reti informatiche, è necessario lavorare sulla creazione di flussi informativi che permettono poi alla direzione di programmare meglio e anche ai professionisti di valutare il proprio operato, ma anche ai cittadini di valutare in trasparenza quello che si sta facendo. Per quanto riguarda i medici, tra i medici cubani che sono arrivati e soprattutto, visto che si parla sempre di medici che stanno andati via da Crotone, qual è la situazione? Nel senso che i reparti sono coperti? Allora, da quattro mesi a questa parte, cioè da quando sono qua io, in realtà il bilancio è positivo, ci abbiamo portato dentro 20 medici e ne abbiamo persi 11. Il tema vero di questa realtà è la migrazione, cioè c'è gente che viene a lavorare qui dopo un po' di tempo, se è di Catanzaro o di Cosenza o di altre province, siccome c'è un problema di personale medico un po' dappertutto, si fanno i concorsi. Allora, io ho chiesto di condividere a livello regionale le modalità per fare i concorsi, in modo da tutelare le aziende più deboli. Vibo e Crotone sono sicuramente le province più deboli dal punto di vista, diciamo, delle strutture sanitarie, dell'attrattività che possono avere le strutture sanitarie sui professionisti. Quindi è un percorso che dobbiamo condividere con il livello regionale, però al momento, diciamo, il nostro tema è quello, è il ricambio, perché grazie anche all'iniziativa del Presidente Occhiuto di fare questo accordo con i medici cubani, diciamo, e quindi l'importazione dei medici, noi appunto abbiamo avuto 20 nuovi inserimenti e 11 dimissioni, ma di questi 20, 11 erano proprio medici cubani, che comunque si inseriscono nei nostri servizi, hanno, è chiaro che la loro medicina è diversa dalla nostra, lo servizio sanitario è diverso dal nostro, quindi devono adattarsi all'uso delle tecnologie, che ad esempio noi abbiamo sicuramente in misura maggiore che a Cuba, insomma, però devo dire che i primari con cui parlo sono soddisfatti, addirittura alcuni di loro mi hanno chiesto proprio di avere a disposizione i medici cubani, quindi insomma è un percorso, diciamo, che fa bene sperare. Dopodiché abbiamo comunque dei settori, non bisogna negarlo, che sui quali dobbiamo lavorare con un'ottica, diciamo, più aggressiva, cioè noi siamo usciti con numerosi bandi in queste settimane per reclutare medici, perché comunque un po' di carenza c'è nei vari reparti, nei vari servizi. Siamo usciti, abbiamo sbloccato tutti i concorsi che erano, diciamo, fermi, abbiamo sbloccato anche i concorsi per le strutture complesse, cioè per i primari, abbiamo avviato anche concorsi per gli amministrativi, perché comunque un'azienda sanitaria deve funzionare bene, sia dal punto di vista sanitario, ma tantissimo dal punto di vista amministrativo, perché poi l'azienda si regge sui percorsi amministrativi. Su questo abbiamo sbloccato dei concorsi, li stiamo facendo, andremo naturalmente, dobbiamo stare attenti anche al bilancio, non andremo oltre le indicazioni di bilancio che ci ha dato la Regione, però comunque copriremo una serie di fabbisogni. Lo stiamo facendo, abbiamo anche settimana scorsa assunto altre persone. Stiamo lavorando molto su questo tema, cioè sul tema del fabbisogno di personale e coprire i bisogni. Dopodiché c'è un tema qui in tutta la Regione, ma che io naturalmente ho visto qui a Crotone, sul quale bisognerà lavorare, che è proprio la modalità di lavoro. Un altro dei filoni di attività che questa direzione farà è di cercare di cambiare alcune abitudini che a mio parere impattano sui servizi amministrativi e quindi anche sui servizi sanitari. E quali sono questi? Ad esempio, questo è più complicato, dovrò discutere con gli amministratori locali. Noi abbiamo una rete di sportelli su tutta la provincia, sovradimensionata, che fa sì che alcune risorse umane, poi alla fine l'azienda sanitaria è fatta da persone, insomma è un'azienda di servizi, quindi le persone, i professionisti sono la cosa più importante. Vengono utilizzate per un po' di ore alla settimana per attività che sono abbastanza ridotte, quindi noi dobbiamo cercare di ottimizzare questo per riuscire poi a servire meglio i cittadini. Uno dei miei obiettivi è anche quello di fare in modo che i cittadini di questa provincia abbiano a disposizione tutti i giorni della settimana, dal mattino al pomeriggio tardi, servizi disponibili per qualsiasi funzione. È una cosa non semplicissima, detta così sembra facile, bisogna in realtà lavorare sull'organizzazione in modo importante. Migliorare la qualità del servizio, possiamo dire, con delle presenze che siano costanti all'interno dei reparti e nello stesso tempo così evitare quella che è l'immigrazione sanitaria. Sì, lavoreremo anche appunto sull'offerta, si dice, l'offerta di servizi e lavoreremo anche sulla, oltre che sull'offerta, quindi abbiamo riaperto i concorsi perché secondo noi in alcune aree c'è carenza di personale. Speriamo di riuscire a coprirli, naturalmente queste cose le vedremo fra sei mesi, rifaremo il punto, insomma. L'abbiamo riaperto sia per gli amministrativi in sostanza che per i sanitari, dice nonna, perché a mio parere, come dicevo prima, l'aspetto amministrativo e il personale amministrativo è di fondamentale importanza per un'azienda di servizi alla persona. Quindi noi stiamo cercando di ottimizzare tutto questo, lavorando anche sugli orari di apertura, sulla localizzazione, sulla dislocazione dei punti di erogazione oppure gli sportelli a servizio dei cittadini. E bisognerà, questo è un percorso che io dovrò fare con la conferenza dei sindaci perché io so che ci sono delle resistenze all'ottimizzazione del personale. Però non possiamo far diversamente, non posso pensare di tenere una persona che lavora due giorni alla settimana in uno sportello decentrato e magari poi mi manca personale in zone dove la densità di popolazione è più alta. Insomma, bisogna organizzarsi al meglio, tutelando naturalmente anche le zone più periferiche. Quello sarà un lavoro complicato. Pronto soccorso? Pronto soccorso, siamo riusciti anche qui a sbloccare i lavori che erano fermi da parecchio tempo. Mi garantiscono, poi vabbè, i lavori di edilizia, sempre farci la tara, però dovrebbero consegnarmi il pronto soccorso finito alla fine di aprile. Spero di inaugurarlo a inizio maggio. Tra l'altro, sul pronto soccorso, siccome entra dentro nella rete di servizi per l'emergenza urgenza, io poi farò insieme alle amministrazioni locali una campagna di comunicazione sull'uso dei servizi di emergenza urgenza e della continuità assistenziale, perché è molto importante come i cittadini poi si rivolgono anche a questi servizi. Ci sono altre novità che possiamo dire ai nostri telespettatori? Allora, una delle novità che spero di riuscire a portare a casa è una collaborazione con l'azienda spedagliore universitaria Dulbecco, che citavo prima, in occasione dell'università, per la collaborazione su alcuni servizi assistenziali. Questo per noi potrebbe essere molto importante, mi riferisco in particolare a tutta l'area della cardiologia e l'emodinamica, sulla quale adesso a giorni usciremo col bando per i lavori. E' chiaro che lì bisogna avere cardiologi esperti, perché fare un'angioplastica in emergenza è una cosa importante per la vita di una persona, di un cittadino, quindi ad esempio sviluppare... Già i cardiologi che ci sono qui sono cardiologi esperti, però l'emodinamica è una cosa differente. Bisogna avere persone competenti, noi abbiamo già preso contatti con alcuni emodinamisti illustri di questa regione, bisogna sviluppare, bisogna creare un'equip importante per i cittadini che poi possono rivolgersi all'ospedale di Crotone. Qual è la risposta di questi professionisti importanti della nostra regione? Sono disponibili? Al momento stiamo discutendo per farci dare una mano per la realizzazione. Sono disponibili, si tratta di trovare una soluzione anche, diciamo, organizzativa, perché si realizzi un'emodinamica, perché è chiaro che il reparto di cardiologia rimarrà con i cardiologi che servono i cardiologi lì. Se si apre un servizio di emodinamica servono gli emodinamisti e se si vuole avere un servizio di emodinamica, cioè H24, non servono due emodinamisti, ne servono di più. Quindi bisogna lavorarci molto bene. Questo è uno dei progetti che vorrei sviluppare con l'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco. In tutto questo, la Regione Calabria conosce questa situazione e vuole dare il proprio contributo? Sì, io quest'idea di collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria l'ho già accennata al Presidente che condivide l'orientamento. Ne ho parlato con la Vice Presidente oggi, quando abbiamo discusso dell'Università Crotone. Ne ho già parlato anche con la direzione generale dell'azienda ospedaliera universitaria. È un progetto ambizioso, non lo nego. Sarà semplicissimo, però la disponibilità c'è. E so che il Presidente è favorevole, quindi si tratta di mettersi intorno a un tavolo e studiare la modalità per riuscire a realizzarla. Sarebbe, secondo me, un'opportunità non solo per noi, cioè per noi come azienda, non solo per i cittadini di Crotone, ma secondo me anche per l'azienda ospedaliera universitaria che così avrebbe, diciamo, professionisti che si alternano o comunque una realtà, perché poi in realtà sia gli hub che gli spoke hanno dei ruoli diversi e bisogna saper lavorare in entrambe le situazioni per essere degli ottimi professionisti. Non è sufficiente, in particolare in alcuni settori, devi fare solo le cose difficili, devi sapere anche fare le cose normali. Si riuscirà a creare una rete sanitaria calabrese? Ma io devo dire che onestamente la sfida che ho raccolto, insomma, venendo a lavorare qui a Crotone, su richiesta del Presidente Occhiuto, è perché qui già lavorano altri soggetti in altre aziende. Ora, siano in azienda zero che come consulenti di Occhiuto, che conosco bene e che so che sono in grado di fare bene. Quindi è stata una sorta di fiducia. E poi devo dire, ripeto, non voglio, però, oggettivamente questa amministrazione, questa presidenza, ci sta mettendo proprio la faccia sulla risoluzione di questi problemi e miglioramento. Non ci si deve aspettare che nel giro di un anno questa regione diventi chissà che cosa. Cioè, sicuramente si può avviare un percorso, questi percorsi hanno tempi molto lunghi. Però alcune cose si possono già portare a casa nel giro di un anno o due. Questo è importante perché chiaramente noi parliamo sempre di emigrazione dei malati che vanno a farsi curare fuori. Poi abbiamo parlato oggi anche dell'Università di Medicina che potrebbe essere una risposta positiva per il nostro territorio. Insomma, bisogna mettere in campo tutte quelle idee, come lei ha detto, che possono servire a dare a questo territorio, a questa regione, una sanità adeguata al passo con i tempi. Certo. Io credo che in questa visione che sta dicendo lei conti molto anche la popolazione, i calabresi. Conta molto le amministrazioni locali, bisogna avere fiducia, bisogna collaborare per la soluzione dei problemi. Non c'è altra modalità. Cioè bisogna creare un gruppo, una classe dirigente, come si dice, e dei manager della sanità, insomma, investire su di loro, ma anche usare i servizi nel modo giusto, avere fiducia. Ripeto, ci sono alcuni professionisti in Ospedale Gruttone che sono veramente bravi, bisogna saperlo, bisogna rendicontarlo, bisogna che noi si racconti quello che si fa e quali sono i risultati, in modo che i cittadini poi abbiano fiducia nell'istituzione. E comunque il rapporto tra l'istituzione, gli amministratori locali, l'azienda sanitaria, la regione, deve essere improntato alla massima trasparenza e alla rendicontazione delle attività. Lei inizialmente parlava del 118, un servizio importante non solo per il nostro territorio, ma per tutta la Calabria. Sono sempre tante le ambulanze che si vedono in giro perché ci sono casi in cui c'è necessità di intervenire. La situazione è sempre sotto controllo? C'è necessità di medici, non solo di infermieri, di personale in questo settore? Allora, in questo settore, in tutta Italia, c'è un problema di personale medico sulle ambulanze. E poi saprete che nella scuola di specializzazione di medicina d'urgenza il numero degli iscritti è la metà dei posti disponibili. Questo è un problema di programmazione nazionale perché bisognerà incominciare a ragionare e a dire magari io al medico che mi va sull'ambulanza lo pago di più, gli riconosco un percorso di carriera differente. Questo vale anche per gli infermieri, non solo per i medici perché gli infermieri sulle ambulanze sono molto importanti. di solito sono infermieri molto competenti, formati in modo particolare sull'emergenza. Quindi a questo personale va dedicata particolare attenzione. Certo è che questo è un tema di carattere nazionale. In questo momento, come oramai si sa, le scuole di specialità più ambite sono l'oculistica, la dermatologia e la chirurgia estetica perché sono le specializzazioni dove poi puoi fare lì più libera professione e hai... Quindi questi ragionamenti che spettano alla politica devono essere poi i ragionamenti che sono da utilizzare nella programmazione perché il tema è proprio qui. Il tema della programmazione è che bisogna sviluppare alcune specialità e quindi dedicare particolare attenzione che vuol dire, secondo me, anche immaginare retribuzioni diverse e anche sulle professioni sanitarie perché non dimentichiamoci che poi gran parte dell'assistenza sanitaria in un paese occidentale è svolta dagli infermieri, dalle ostetriche, dai fisioterapisti, insomma, dalle cosiddette professioni sanitarie. In Italia il numero degli infermieri rispetto alla popolazione è esattamente la metà dei paesi con cui ci confrontiamo, cioè Francia, Germania, non parliamo della Svizzera o altri paesi che hanno un numero di infermieri significativamente più alti. Purtroppo nella programmazione nazionale sulle professioni sanitarie non c'è la stessa attenzione che c'è rispetto alle professioni mediche. Bisogna che si riveda la programmazione. Svizzera